Il debutto è avvenuto senza intoppi, ma non è questa la notizia. La vera novità, piuttosto rivoluzionaria, è che da oggi possiamo avere accesso diretto ai nostri referti relativi ai tamponi, sia molecolari che antigenici rapidi. Inoltre, compilando l'apposita delega, possiamo anche prendere visione dei referti dei nostri figli minori. Tutto online e in assoluta sicurezza, anche sotto il profilo della protezione dei dati e della privacy. purché ovviamente il tampone sia già stato elaborato, cosa che in alcuni casi, vedi l'Asla Lanciano Vasto Chieti, sconta ancora qualche ritardo. Il funzionamento della piattaforma realizzata dal Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale della Regione Abruzzo è relativamente semplice, purché si abbia Speed, l'identità digitale che consente di utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi della pubblica amministrazione. Per accedere a MIA da PC o da smartphone, occorre inserire nella barra degli indirizzi mia.regione.abruzzo.it Questo è un sistema che è stato aperto oggi per venire incontro alle esigenze della collettività su impulso dell'assessore che, osservando l'evoluzione della pandemia, ha ritenuto necessario favorire l'accesso e la conoscenza di queste informazioni da parte di chi ha effettuato un tampone. Questo si aggiunge a questi ulteriori servizi, scelta e revoca del medico, presto partirà anche la prenotazione online, anche in forza e grazie a una collaborazione col sistema informatico regionale, quindi due strutture, la sanità e l'informatica regionale, che stanno collaborando per progredire nell'avanzamento dell'evoluzione tecnologica. L'obbligatorietà di accedere attraverso Speedo e CE è dovuta proprio al rispetto di questi addempimenti legislativi da cui non si può scappare, però devo dire che abbiamo avuto un'ottima risposta. Fino adesso ci sono stati già 9.000 accessi, abbiamo avuto circa picchi di 500 accessi in un'ora. Allo stesso tempo è stato favorito l'accesso a Speedo attraverso questi nuovi servizi e abbiamo censito un numero molto elevato di persone e di utenti che ormai agilmente riescono ad accedere ai servizi online attraverso Speed. Chi accede a questa particolare piattaforma, mia regione, ha il risultato di tutti i tamponi che ha effettuato, non solo dell'ultimo. Sì, le tempistiche di attraversamento sono subordinate sia all'attività di analisi che viene fatta dal tampone sia poi ai sistemi che devono comunicare tra di loro. Ecco, quest'ultima parte è pressoché immediata. Una volta che viene refertato il tampone, il test antigenico, immediatamente viene trasferito ad Atra e quindi è visibile sul sistema MIA e produce quindi il certificato verde, il Digital Green Certificate che poi è l'esito finale di tutti i processi di valutazione. Molto meno semplice invece è ottenere lo Speed, almeno per chi di nativo digitale ha solo i nipoti. Comunque, una volta ottenuto, magari con l'aiuto del proprio gestore di identità personale o dei suddetti nipoti, si può entrare in MIA e il gioco è fatto. La speranza è che questo nuovo sistema possa ridurre i tempi di attesa dei referti e bypassare alcuni disservizi. Un esempio? Ricevere una mail che dovrebbe contenere l'esito del tampone inallegato che però non c'è o non si apre manco con le cannonate, come è accaduto a diverse persone del territorio provinciale teatino.